Nicola Delprete, consigliere comunale indipendente, lancia un appello all'amministrazione comunale vendere il parco Aqualand. Sì, più che un appello è una constatazione, una realtà dei fatti nel momento in cui l'amministrazione comunale dice di voler alienare il patrimonio pubblico che non è produttivo, come ad esempio la farmacia comunale, è bene riflettere anche sulla opportunità di vendere una struttura che è Aqualand che da tre anni praticamente non dà nulla all'amministrazione comunale, nonostante ci sia una convenzione tra comune e gestore, perché il parco rimetta all'amministrazione comunale, dunque alle casse pubbliche, 83 mila euro, IVA compresa. Questo non accade, così come mi risulta che c'è una morosità per quanto concerne anche alcune imposte e tasse comunali, come ad esempio la Tarsu, per non parlare dell'acqua, un contenzioso ancora aperto. Quindi mi chiedo a cosa serve ad un ente pubblico, all'amministrazione comunale avere un bene che potrebbe essere immesso sul mercato dell'imprenditoria turistica privata, realizzando diversi milioni di euro per quanto concerne il pubblico, se questo bene non produce utili. Tra l'altro è previsto anche un campo da realizzare per quanto riguarda il parco Aqualand, un campo che finora invece non è stato neanche avviato. Sì, poi questo è un discorso un po' più complesso, perché diciamo che la realizzazione da parte del gestore di questo campo faceva parte del rinnovo contrattuale, perché nel 2004 ci fu il prolungamento della convenzione. La prima convenzione firmata da Tagliente nel 1994 durò 10 anni, prima della scadenza ci fu questo rinnovo nel 2004 e nel rinnovo c'era una clausola ben precisa che riguardava la realizzazione da parte del gestore con un impegno di spesa di 260 mila euro per la realizzazione di questo campo di calcio che sarebbe dovuto essere anche a disposizione del pubblico, quindi della gente. Il campo di calcio non è stato realizzato. Certo, il gestore può dire la sua, può accampare mille scuse e anche giustificazioni, io non dico assolutamente di no, la realtà dei fatti è che questo campo a distanza di tanti anni non c'è e quindi non vedo quale utilità pubblica possa continuare ad avere una struttura del genere dal momento in cui il gestore può in ogni momento aprire un contenzioso con il comune accampando migliorie che magari sì sono state fatte ma a vantaggio di chi? Cioè gli incassi a chi sono andati? Sono andati mica al pubblico per cui la miglioria è stata un'opera a vantaggio del pubblico. La miglioria, se miglioria c'è stata, è stata ad appannaggio del privato. Tra l'altro c'è anche un altro particolare che va evidenziato e che non ho messo nella interpellanza che comunque ieri ho notificato al Presidente del Consiglio e al Sindaco perché di questo argomento si parli in Consiglio Comunale riguarda una serie di attività poi collaterali per cui Aqualand incassa non solo il biglietto d'ingresso. Faccio un esempio su tutti. Per recarsi al Parco Aqualand c'è un parcheggio. Il parcheggio rientra nell'area perimetrata da convenzione ma il privato che va e usufruisce del Parco Aqualand deve pagare anche il parcheggio oltre al biglietto d'ingresso. Quindi ecco, tante cose che magari potrebbero avere una maggiore trasparenza e per questo credo che una struttura del genere con l'amministrazione comunale che chiede nel bilancio preparato approvato dall'Aggiunta ma non ancora dal Consiglio Comunale oltre 7 milioni di euro di tasse per la sola taressa, i cittadini vastesi, i milioni il Comune di Vasto li può recuperare da qualche altra parte.